Buongiorno, buongiorno e bentrovati amici di Coffee Break Estate, di convivenza parla il Presidente della Repubblica Mattarella parlando di lavoro, ma come vedete sullo sfondo della tragedia di Torino la parola lavoro ritorna anche nelle parole della segretaria del PD, Alice Line, che dice mai più accostare a questa parola la parola povero o precarietà declinando quindi la questione da un punto di vista più economico di dignità del lavoro, avete sentito anche nella copertina di Francesco Bardaro Grella parlato la Ministra Calderone, lo sfondo è questo, lavoro, lavoro con tanti incidenti che continuano a capitare ogni giorno in questo caso siamo in presenza di una tragedia che ha riguardato 5 persone, un'altra Tissen per molte persone che in Piemonte purtroppo hanno dovuto fare i conti in questi anni con quello che era già successo, ma insomma lo chiedo anche ai nostri ospiti che vi presento subito, siamo qui a parlare di un'ennesima strage di operai Luca Cifoni, collega del Messaggero, buongiorno, bentrovato, anche Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico ritroviamo anche il senatore Massimo Garavaglia per la Lega, buongiorno, collegato con noi da Bruxelles c'è Pier Nicola Pedicini, segretario del Movimento per l'Equità Territoriale, Pedicini ci sente, buongiorno Vi sento, buongiorno a tutti Allora intanto io comincerei a mettere a fuoco quello che è successo ieri, è stato un momento del luto, del dolore anche con tante storie veramente drammatiche che arrivano dai protagonisti ora però c'è l'inchiesta, l'inchiesta aperta dalla Procura di Ivrea per cercare di capire che cosa è successo è chiaro che si è trattato di un errore di comunicazione tra qualcuno, in particolare tra RFI cioè la rete che gestisce il passaggio dei treni sui nostri binari e quel funzionario della stessa RFI che si trovava lì con quella squadra, Luca Sì, c'è stato un evidente sfasamento temporale il treno è arrivato troppo presto, i lavori sono cominciati troppo presto e le persone che erano lì a lavorare e quelle che purtroppo sono decedute in questo modo tragico erano sicure di lavorare in assoluta sicurezza nella situazione in cui il traffico è interrotto quindi è evidente che c'è stato questo errore di comunicazione e questo sarà accertato dall'inchiesta da un'altra parte ci si può domandare se è sufficiente un sistema in cui non si supplisca un eventuale errore di comunicazione se non ci possono essere degli ulteriori automatismi che in caso di un errore umano quello che sia di comunicazione impedisca una situazione di questo tipo parli per esempio di un sistema di blocco automatico, un semaforo rosso quando gli operai scendono subinari parlo diciamo al di là degli aspetti tecnici, parlo di qualcosa che si possa solo riscrivere un eventuale errore di comunicazione questo è sicuramente un tema che sarà l'attenzione anche dei tanti sindacalisti che ieri hanno fatto sentire forte la propria voce visto quello che è successo, lo chiedo adesso alla politica si continua a fare troppo poco, facciamo abbastanza ma poi l'errore umano è sempre dietro l'angolo Arturo Scotto senza dare patenti di colpevolezza in questo caso a nessuno ma l'errore umano ci sta, è sempre successo e può tornare a succedere io non lo so se possiamo limitarci a parlare dell'errore umano intanto guardiamo il contesto, qui ci troviamo di fronte a una guerra a bassa intensità quando a oggi, primo settembre del 2023, sono 450 le lavoratrici e i lavoratori morti sul lavoro faccio fatica a legare tutto all'errore umano credo che ci sia un tema di sistema secondo, andiamo a vedere bene la vicenda RFI il 40% di quelle linee sono obsolete tant'è che avremo investimenti ingenti che arriveranno per ammodernare la rete alcuni dei quali ovviamente legati al piano nazionale di ripresa e di resilienza se questo è vero, come è vero, il tema di come funziona la macchina e di come si evita di risparmiare sulla sicurezza è secondo me la questione delle questioni per questo io, ovviamente poi ci sarà la magistratura si faranno gli accertamenti, faccio fatica a pensare che nel tempo dell'intelligenza artificiale, come diceva prima il collega del messaggero ci possa essere esclusivamente una questione di controlli che non hanno funzionato probabilmente c'è un tema che riguarda il meccanismo degli appalti e il fatto che introducendo subappalti a cascata anche nell'ultimo codice degli appalti su che cosa vai a risparmiare? vai a risparmiare su questo e questo in un paese democratico e inaccettabile allora, in questo bisogna anche aggiungere un dettaglio però ulteriormente drammatico che quella squadra che lavorava in subappalto, è vero aveva lì presente in loco quello che si chiama lo scorta ditta cioè il rappresentante di ferrovie, non di ferrovie, di rete ferrovia italiana che deve dare per l'appunto nulla osta per la partenza dei lavori è difficilmente immaginabile che lui stesso sia andato incontro a una possibile morte poi in realtà si è salvato, quindi adesso sarà l'inchiesta come diceva Scotto non vorrei che alla fine di questa vicenda la dico proprio in termini brutali si prende il caporeparto e non ci si pone il tema tutti insieme di come dobbiamo risolvere questa questione in maniera strutturale e dunque immaginare altri meccanismi per assegnare le gare mentre prima lei parlava, abbiamo visto la prima pagina di Un Quotidiano che è il domani, dice PNRR tagliati i fondi per la sicurezza lo chiedo al senatore Garavaglia è così o è lei che idea che si è fatta invece di questa storia? Allora, io penso che di fronte a una tragedia come questa l'ultima cosa da fare è polemica politica sterile cioè proprio lasciamo perdere è una tragedia immane RFI è lo Stato quindi ipotizzare che lo Stato risparmi sulla sicurezza è oggettivamente sbagliato bisognerà capire che cosa è successo anche perché per lavorare su una ferrovia di notte ci sono delle procedure, penso, molto rigide non semplici non basta una telefonata è evidente che non è stata rispettata in toto questa procedura si capirà la magistratura farà chiarezza resta però una grande tragedia e mi fermo qui perché fare polemiche politiche di fronte a una tragedia del genere non nazis